Upsa a tutti i miei cari Upsini e Upsina Come, come, come state? Spero veramente, veramente bene, dai Oggi sono qui Solo per voi Per fare un video che avevo in mente di fare Ma dopo che ho visto che uno di voi o una di voi Adesso non mi ricordo bene Mi ha scritto di farlo Ho detto, sai che c'è? Mi preparo per farlo e lo faccio Questo sarà un video Segui le mie istruzioni Appunto dove cercherò di farti rilassare Ma queste istruzioni cambieranno Ogni volta che guarderai questo video E quindi Stai molto 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 attento Io però direi subito di iniziare Perciò indosso un paio di cuffie auricolari Stenditi sul tuo letto E stai molto 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 attento a quello che dirò Va bene? Proviamo È un esperimento Vediamo se questo video vi piace Allora Io come sempre mi sono appuntato un bel po' di cose Allora Prima domanda Se stai guardando questo video di sera Osserva questo cubo Io ora lo muoverò Tu osserva questo cubo Se invece Non stai guardando questo video di sera Guarda il mio naso Non lasciarti distrare Non lasciarti distrare Così Guarda il cubo Oppure Guarda il naso Guarda il cubo Oppure Guarda il naso Adesso Il contrario Se stai guardando il cubo Guarda il mio naso Guarda il mio naso Se stai guardando il naso Guarda il cubo Segui i movimenti che fa Perfetto Continua a guardare Continua a guardare Perfetto Ci sei Andiamo avanti Se L'ultima cosa che hai mangiato Era qualcosa di salato Guarda la targa luminosa Guarda la targa luminosa Qua dietro di me Guarda magari a qualsiasi lettera Tu voglia Io vorrei mettere un po' più così Tu guarda la targa luminosa Se invece L'ultima cosa che hai mangiato Era dolce Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Ascolta questo Tongli King Ok Va bene Adesso Di nuovo Focalizzati sul mio naso Magari tra Un passaggio E l'altro Ci focalizziamo sul mio naso Così per Richiamare L'attenzione Che ne dici Perfetto Se il tuo compleanno È Tra Meno di Due mesi Di distanza Due mesi compreso Quindi è compreso Tra i zero E i due mesi A partire da adesso Guarda le mie mani Guarda le mie mani Altrimenti Continua a guardare Il mio naso Scegli tu Quale mano guardare Se stai guardando le mani E resta concentrato Sul mio naso Se invece Non le stai guardando Continua così Continua così Adesso Adesso chi stava guardando il mio naso Deve guardare uno Dei miei Due occhi Continua così Chi sta guardando le mani Faccia Attenzione Ai movimenti Una è sparita L'altra è sparita Ed eccole tutte e due Di nuovo Perfetto Allora Se stai guardando questo video In inverno O in primavera Ascolta Questo trigger Qua Se stai guardando questo video In autunno O estate Ascolta questo video Qua va bene Io però li farò entrambi Ascolta questo video Perfetto Fammi posare ogni tanto Un po' di roba Di nuovo sul mio naso Tutti 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 Quanti Sul mio Naso Se Questo È il primo video ASMR Che stai guardando Oggi Focalizzati sulle spazzole Di questo pennello Che adesso farò muovere Vicino Vicino a te Se invece Non è Il primo video ASMR Che stai guardando oggi Guarda il microfono Guarda La parte Rossa Del microfono Proviamo 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 Rossa Rossa Noi 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 Così, continua a guardare Continua a guardare Perfetto Lo appoggio qui Adesso vorrei facessimo una cosa a tutti uguale Perciò adesso ti dico Chiudi gli occhi di nuovo Chiudi, chiudi, chiudi gli occhi di nuovo E devi fare molta attenzione perché mi dovrai dire Quando sentirai questo suono Va bene? Io farò del silenzio Magari farò anche altri suoni un attimino così Ma tu dovrai dirmi quando sentirai Va bene? Perciò chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Perfetto Bravissimo Oh, bravissima Perfetto Un'ultima volta Top Riesci a rimanere concentrato Adesso Se il tuo giorno È stato Un buon giorno Cioè sei passato una buona giornata Vorrei Ti vocalizzassi Su questo suono Se invece il tuo giorno E mi dispiace tanto Se in questo caso Non è stato Un buon giorno Vorrei ti vocalizzassi Su questo suono Proviamo Io come ho fatto prima Li farò entrambi Perciò devi stare molto attento Ok Allora 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 Attenzione perché adesso dovete cambiare. Quindi chi ha passato un buon giorno si focalizza sul fazzoletto e chi invece ne ha passato un brutto giorno sullo scorcio. Attenzione che ho cambiato. Adesso sai che cosa facciamo? Io continuerò a farli qui e ricordatevi fazzoletto chi ha passato un bel giorno e scotch chi ha passato un brutto giorno. A un certo punto potrei fermarne uno o l'altro o entrambi. Nel caso il trigger che stai ascoltando si ferma, devi sussurrare. Ehi, va bene? Hai capito cosa bisogna fare? Perfetto. 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 Basta così, dai. Se sei un ragazzo o un uomo o comunque un maschio guarda questa tazza, guardala. Se invece sei una ragazza o una donna chiudi gli occhi e ascolta il suono che fa questa tazza. Invece i ragazzi devono concentrarsi sul guardarla. Ok, aspetta, ma che la metto così? Ok, aspetta, ma che la metto così? Perfetto. Ok, aspetta, ma che la metto così? Ok, aspetta, ma che la metto così? Ok, allora, non abbiamo ancora finito, abbiamo ancora due cose da fare. Adesso, se oggi sei andato a scuola, guarda, questa piappa. Se oggi non sei andato a scuola, guarda il mio naso. Ok. Ok. Se oggi hai ascoltato almeno una canzone, guarda la mia mano a sinistra e dimmi che numero farò, perché adesso farò dei numeri. Se invece oggi non hai ascoltato neanche una canzone, guarda la mia mano a sinistra e dimmi che numero farò. Ok. 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 Questo è un po' più complicato. Chi guardava la mia mano a sinistra mi deve dire quanti numeri sto alzando in totale. Mentre chi guardava la mano a sinistra mi deve dire quanti numeri, in questo caso quante dita, non sto alzando. Ok. Quindi il passaggio è quello subito dopo. Ok. La settembre. Ok. Bravissimo. Bravissimo. Bravissima! Allora Adesso è arrivato il momento di dire Cucu Cucu Ora tocca a te Iscriviti al canale Se sei nuovo o nuova Per entrare a far parte di questa Piccola famiglia qua su youtube La Ops community E mi raccomando Lascia un like se questo video ti è piaciuto Se ne vorresti altri simili E un bel commento Facendomi sapere che cosa ne pensi Di questo video va bene Il video di oggi Purtroppo finisce qua Ma se tu Vuoi restare ancora insieme a me Io ti lascio Di qua il mio video precedente Di qua una mia playlist E qua sul basso Il tasto per andare sul mio canale E così puoi vedere Qualsiasi video tu voglia vedere E anche shorts Perché Non dimenticatevi che trovate anche ogni settimana Un nuovo shorts Ok Non vi resta quindi che dirvi Buonanotte Di mandarvi un grande bacio E niente ok Buonanotte 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 Buonanotte